Buonasera e bentrovati ad una nuova puntata di Sportivamente. Ovviamente edizione quella di oggi ridotta oppure flash come preferite perché il ritorno dalle vacanze per le squadre sportive di Civitavecchia non è stato insomma buono, non uso il termine positivo perché in questo momento è meglio non usarlo e ovviamente sapete tutti che il Covid è tornato prepotentemente nelle nostre vite e anche per quanto riguarda le squadre sportive di Civitavecchia ci sono tanti problemi e quindi i campionati insomma sono fermi la maggior parte dei campionati alcune squadre invece hanno giocato ma la maggior parte dei campionati saranno fermi per tutto il mese di gennaio e quindi questa edizione serve soprattutto per farvi sapere insomma che in questi lunedì, nei prossimi lunedì soprattutto i prossimi due o tre, quindi non credo andremo in onda con il nostro Sportivamente ma torneremo in onda con Storie di Sport e quindi vi invito comunque a seguirci il lunedì alle 21 su TRC anche con Storie di Sport o con Sportivamente se ci dovessero essere insomma delle notizie. Per quanto riguarda le squadre sportive di Civitavecchia, parliamo però dello scorso fine settimana perché tre squadre sono scese in campo per quanto riguarda Civitavecchia, parliamo intanto della palla a volo con la margutta Civitalad che nel campionato di Serie B1 ha perso per 3 a 2 contro il Volley Rock a Salle dei Pazzi, una partita davvero dai due volti per la squadra di Pietro Grechi che ha vinto il primo e il terzo set quindi si era portato sull'1 a 0 e poi sul 2 a 1 ma poi ha finito un po' la benzina e quindi ha perso per 3 a 2 conquistando però un punto buono nell'ultima d'andata della Serie B1, un punto buono per cercare di salvarsi e adesso la formazione di Pietro Grechi è sempre in zona play-out ma a meno 4 dalla salvezza diretta e quindi ci sarà tutto il girone di ritorno per cercare di conquistarla. Proprio per quanto riguarda la partita della margutta andiamo a sentire l'intervista a Pietro Grechi. Pietro Grechi inizia una sconfitta il 2022 dalla margutta Civitalad, un peccato perché dopo il terzo set è andato in vantaggio, pensiamo un pomeriggio, un sorriso. Sì, manca un po' di fiducia nei nostri mezzi, loro comunque sono una buona squadra, hanno individuato importanti, colpi molto alti, potenti, però sì, manca un po' di fiducia e devo dire che anche il quarto, quinto set abbiamo peccato un po' in fase di break, non riuscivamo a mettere giù palla quindi la nostra ricostruzione non era secondo me buona come deve essere a questo livello e quindi quando fai difficoltà a mettere giù palla il risultato è più difficile portarla a casa. Se lui stava nel quarto set e anche nel quinto, negli ultimi frangenti, che la squadra beccava continuamente punta da parte della formazione avversaria, quindi forse è mancato qualcosa nel momento del raggio del match, anche la fiducia poi. Sì, 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 due cose ci sono state. Loro quando ricostruiscono e fanno un fase break la fanno bene, cioè nel senso rischiano e cercano di mettere in difficoltà l'avversario. Noi non siamo stati in grado di fare quella situazione bene, quindi è difficile, nel senso che un po' di fiducia, bisogna rischiare un po' di più, anche se la palla è sporca, cercare di prendersi un po' un punto così, rischiarla e vedere se cade. Torniamo in studio per parlare di Calcio a 5, altra squadra che è scesa in campo, la Futsal Civita Vecchia, sempre in casa come fatto dalla Margutta che ha giocato al Palasport, la Futsal Civita Vecchia invece ha giocato al Lottatori e ha vinto per 7-2 contro l'atletico Torma Arancia. Quindi è iniziato bene il 2022 per la Futsal Civita Vecchia, anche se bisogna dire che in realtà non era iniziato bene, perché la Futsal Civita Vecchia aveva perso in Coppa Italia la Final Four, però ha iniziato bene il 2022 per quanto riguarda il campionato di Serie C1, con questa vittoria per 7-2. Chiudiamo con l'Hockey perché anche gli Snipers hanno giocato e hanno vinto, anche loro in casa, al Palamercuri per 5-3 contro i Corsari Riccione, quindi anche per gli Snipers un 2022 che inizia con un sorriso e speriamo che loro davvero possano continuare il loro campionato. Chiudiamo però con un'intervista che il nostro Giovanni Pimpinelli ha realizzato al presidente dell'NCC Vita Vecchia, Marrico Tombolelli, che fa il punto sulla situazione del Palagalli. Marrico Tombolelli, uno dei temi caldi delle feste natalizie cieca è stato anche il Palagalli. Qual è la situazione dell'impianto? Il panettone o il Palagalli? Il panettone è bene, il Palagalli un po' di meno. E niente, è stata ed è una corsa contro il tempo perché purtroppo siamo rimasti senza le utenze e ci stiamo adoperando per gli allacci sia del gas che della corrente. Siamo andati avanti in questi giorni con un gruppo elettrogeno per quanto riguarda la corrente, però c'è stato disattivato anche la fornitura del gas. E quindi è una corsa contro il tempo. Quindi c'è questa questione delle utenze. Non si è riusciti a sistemare prima questa situazione? Prima c'era il Consorso GIS, adesso c'è un nuovo scenario. Cosa è accaduto? E niente, è accaduto che praticamente il GIS ha dato forfè e quando ha dato forfè noi non abbiamo avuto il tempo materiale per poterci riorganizzare facendo un contratto di gestione con un altro consorzio che comunque dovrà essere costituito. Però non ci sono stati i tempi proprio tecnici per poterlo fare. E quindi a questo punto attualmente abbiamo fatto un contratto con un'altra società che è la società di Laura Porchianello, una società sportiva. Questa società momentaneamente sta attivando le utenze. Però ci vogliono dei tempi tecnici. Speriamo al più presto di attivare tutte e due le utenze perché sennò la piscina, l'acqua perde calore, va giù, si fredda e quindi dopo per recuperare il calore ci vorranno parecchi giorni. Sono giorni impegnativi anche per voi per cercare di risolvere questa attivazione. Si riuscirà a tornare in una situazione normale per quanto riguarda il Paragalli? Allora, per quanto riguarda il Paragalli c'è tutta la buona volta di riattivare il Paragalli e di portarlo avanti. Però stiamo parlando di gente come me che fa questa attività a livello amatoriale, nel senso che siamo tutte persone che si adoperano a costo zero per poter far partire il Paragalli. Quindi non è che abbiamo dei grossi capitali per poter investire su Paragalli. Però siamo supportati dall'amministrazione sicuramente. Ci sta supportando, ci supporta la federazione, il comitato regionale. Quindi noi grazie a loro stiamo cercando di poter ripartire. A Civitecchia e al Paragalli sono previste tante manifestazioni sportive nazionali. e quindi diciamo che la federazione tiene molto a che l'impianto riparta. Il problema principale è stato che purtroppo il Consorzio Gisse ci ha abbandonato in un momento delicato, insomma, dalla stagione perché praticamente non ha portato a termine quello che era l'opera che doveva svolgere. Cioè praticamente Gisse si è ritirato non arrivando a fine stagione. E questo ha complicato la vita in tutti i sensi. Tra l'altro, allora, che Gisse si sia ritirato è pacifico, cioè nessuno può dire niente, ognuno fa quello che vuole e grazie a loro siamo ripartiti. Però sappiamo tutti che era una situazione momentanea. Però lasciare a dicembre, lasciare il Paragalli in quello stato è stato deleterio e ci ha creato e ci sta creando parecchie difficoltà. Bene, si chiude qui questa puntata flash di Sportivamente. Abbiamo visto qualche contributo anche oggi. Come detto però, tante squadre non hanno giocato, tante squadre sono state fermate dal Covid. In ultimo anche il calcio che sembrava potesse andare avanti con invece l'LND che ha deciso di fermare i campionati fino al 30 gennaio probabilmente. Poi si vedrà se si andrà avanti anche per il mese di febbraio. Speriamo di no. E quindi anche noi ci fermiamo con la nostra trasmissione. Ma come detto, da lunedì dovrebbe tornare Storie di Sport. Ovviamente poi vi aggiorneremo con tutte le notizie perché in caso dovessero riprendere i campionati ovviamente ritorneremo invece con Sportivamente. Grazie per averci seguito. Vi invito però a seguire dopo di noi la telecronaca della Margutta Civitalad contro il Casal dei Pazzi realizzata dal nostro Giovanni Pimpinelli. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie per averci seguito.